Sabato parcheggi vietati in tutto il centro per la Rovigo in Love, secondo te è giusto o era necessario magari un cambiamento? Sicuramente a livello commerciale sarebbe stato meglio o farla di domenica o comunque essere organizzata diversamente anche perché così priva oltre i parcheggi ma anche comunque il movimento, visto che c'è anche la mostra, sicuramente priva molto i commercianti. Siamo stati chiusi in casa due anni, per una volta che facciamo qualcosa facciamolo fatto bene, noi abbiamo rinunciato al febbraio a fare questa corsa, questa passeggiata, questo momento conviviale per cui credo che sia giusto un po' per uno. Io avrei sicuramente preferito, fosse stata organizzata la domenica mattina o la domenica pomeriggio che comunque c'è il centro, la ZTL chiusa. Mi sembra una cosa esagerata in un momento difficile così, poter limitare le attività commerciali da lavorare perché la gente non ha da parcheggiare, non sa chi viene da fuori, non sa dove mettere la macchina e il centro diventa molto difficilmente accessibile per le attività commerciali. Un'altra limitazione in un momento così difficile che stiamo facendo tanta fatica a restare a galla. Noi dell'organizzazione abbiamo cercato di avvisare in tutti i modi, sia le persone che anche gli abitanti del centro. Abbiamo fatto un evento, stiamo creando un evento per Rovigo impegnandoci al massimo per portare gente, quindi insomma io credo che per una volta si possa anche parcheggiare un po' più lontano e fare due passi, visto che comunque anche le temperature lo consentono, anche se fa caldo però, insomma, è sempre meglio fare due passi, non credo che ci sia da lamentarci per 300 metri a piedi. La Rovigo in Love poi era stata annunciata a febbraio? Sì, prima di febbraio, doveva uscire il 14 febbraio, poi con il discorso del Covid è stata rinviata, ma noi sui social abbiamo sempre continuato a sponsorizzarla, a dare comunicazioni in tutti i modi, e quindi insomma penso che la gente lo sapesse. Grazie. Prego.